E' presentato con delle rose, le chiedo per chi sono, immagino per il suo Napoli e poi? Sono per ricordare Masamini e Addis Najafi. Mi pare di capire che non voglio aggiungere null'altro. No, non voglio aggiungere altro. Gesto assolutamente lodevole e importante. Le chiedo che Napoli ha ritrovato, di fatto oggi il primo vero unico allenamento al completo, è rientrato anche Lozano. C'era qualche osservato speciale perché si raccontava in giro per il mondo di qualche acciaccato, qualcuno affaticato, qualcuno che aveva un po' di problemini. Ci aiuta un po' a rimettere insieme i pezzetti del Napoli? Ma noi quando i nostri calciatori vanno in nazionale, sia i medici, i fisioterapisti, tra l'altro un fisioterapista dei nostri in nazionale, per cui li seguiamo direttamente per telefono giorno dopo giorno. E il fatto che quasi tutti, a qualcuno ha fatto sicuramente bene giocare queste partite perché in questo ultimo periodo aveva giocato un po' di meno da noi. Qualcuno avendo giocato la doppia partita in nazionale come quelli italiani che ha funzionato, che hanno fatto un buon calcio, hanno fatto una buona qualificazione, ha dato seguito a quello che è il discorso del modo di interpretare del Napoli, del modo di giocare del Napoli perché la nazionale italiana ha giocato due buonissime partite. Per cui non abbiamo avuto nessun infortunato, è stato un dare seguito a un lavoro normale. E per quanto riguarda poi la possibilità di allenarsi tutti insieme, abbiamo abbastanza fuoco in questo momento qui quello che è il nostro discorso e basta poco per richiamarlo. Infatti stamani all'allenamento li ho visti tutti molto presenti con la testa, molto concentrati e hanno sviluppato un buonissimo allenamento. Nonostante queste due settimane, come voleva magari dire lei di nazionali, di viagge, noi siamo pronti per questa partita. Sport Italia si prepara a Radio Pischi. Salve mister, è in un campionato che è sicuramente diverso dagli altri perché si fermerà a novembre e adesso si giocherà praticamente ogni tre giorni. Possiamo dire che questo è il primo vero crocevia della stagione del Napoli in campionato e successivamente in Champions? Io penso che ogni partita serva a ricordare se noi siamo un Napoli forte oppure no. è un discorso che va al di là di quello che è la valutazione o l'importanza di una gara perché il percorso sarà a lungo e difficile. E tutte le volte, come abbiamo già detto, dobbiamo rifare le stesse cose. Ci vuole impegno costante, non per quanto riguarda poi solo la ricerca di un risultato, ma per quanto riguarda lo sviluppare un singolo allenamento. Ci vogliono gli atteggiamenti corretti che poi diano la possibilità di una continuità di comportamento nel lungo periodo. Ogni partita ha un valore particolare perché ci sono sempre tre punti in palio e perché conferma che stai continuando a lavorare per bene e che fai le cose giuste. Non vedo la possibilità che un risultato possa cambiare la storia di un campionato. Diciamo che può dare una spinta ulteriore, però poi il lavoro è fatto nel lungo periodo. Io non ho mai visto segnare uno scudetto a settembre, a ottobre. L'ho visto sempre a segnare a giugno, per cui da qui a giugno c'è tanta strada da fare. Radio Kis Kis, si prepara il Corriere dello Sport. Buon pomeriggio mister, le chiedo, giocare contro le squadre di Juric è sempre particolarmente complicato, soprattutto da un punto di vista tattico. Voglio fare riferimento soprattutto ad un ballottaggio in attacco, Raspadori o Simeone. Per come difende il Toro, quali di questi due calciatori farebbe più al caso in questa sfida? Fanno al caso tutte e due e giocheranno tutte e due. Poi decida lei se vuole fare un titolare da 60 minuti, un titolare da 30. Per me è indifferente se poi quello da 30 o da 35 determina la partita, cioè va ad evidenziare una qualità di scelta di momento che sorpassa quella che è l'importanza di giocare 60 minuti. Per cui questo discorso di quelli che giocano, di quelli che giocano di più, di quelli che giocano meno, va affrontato in maniera corretta. Perché per arrivare a fare questo percorso, come si diceva, così lungo, abbiamo bisogno di gente in condizioni, abbiamo bisogno di gente in forma, abbiamo bisogno di gente stimolata, abbiamo bisogno di persone che poi hanno minutaggio nelle gambe. E' difficile poi giocare una partita dopo mesi e vanno un po' usati i calciatori, ora con queste cinque sostituzioni bisogna andarli a usare. Ci servono per essere in condizioni, rigiochiamo martedì, per cui anche il fatto di scrivere questo titolare e quell'altro in panchina cambia poco. Con questo caso qui noi abbiamo loro due davanti in una partita di 90 minuti, con un'altra partita fra tre giorni, li useremo tutte e due. Sono convintissimo di questo, per un motivo o per un altro. E bisogna abituarsi al titolare dei 65 minuti e al titolare dei 35, al titolare dei 40 e al titolare dei 60, perché ormai sono 100 minuti di partita. Non è titolare o riserva, ballottaggio fra questo e un altro, per quelle che sono le caratteristiche fra Lozzano e Politano. Poi uno quando ha dato degli strappi per 70 minuti, c'è bisogno dell'altro. Dice ma io ho giocato 20 minuti, ho giocato dopo di lui, sono la riserva. No, sei quello che ce l'ha fatta vincere se ti comporti bene. Quelli lì diventano più importanti, quei 20 minuti lì. Poi è chiaro che bisogna fare risultato, perché se no è sbagliato sicuramente quella che è la scelta. Però ormai siamo abbastanza abituati e penso che questo ragionamento sia condiviso e sia facile da interpretare. Buonasera mister, a Milano, dopo una splendida vittoria, mister Domenichini svelò, lei si era un po' arrabbiato. Che cosa deve fare domani la squadra per non farla arrabbiare? Milano, prima di tutto, se una persona capace come Pioli dice che hanno giocato una bellissima partita sotto tantissimi aspetti e che era quello che volevano fare e che hanno avuto tante occasioni da gol e che che, io sono abbastanza d'accordo con lui perché è stato così. E questo però dà valore a questa vittoria qui perché poi il valore si va a chiappare sempre andando a confrontare con chi hai giocato e con chi hai vinto. Se hai vinto contro il Milan con una squadra che ha fatto le cose benissimo è segno che noi abbiamo fatto altrettanto bene e sono dei meriti che vanno dati ai nostri calciatori. Poi da un punto di vista mio io vado sempre dentro quello che è ciò che bisogna fare in generale in linea di massima. Dico, per fare una sintesi, che il talento da solo non basta mai. Di questo sono estremamente convinto. perché poi, abbiamo sempre usato questa parola che si dice, si chiama esecuzione, bisogna essere esecutivi anche per quello che non è la nostra qualità, non è il momento che assomiglia a quelle che sono le nostre capacità e le nostre caratteristiche. quando Pioli dice che hanno avuto diverse palle per far gol, ha ragione. Secondo me c'è un po' di partecipazione nostra in quelle che sono avute le occasioni del Milan. Partecipazione nel senso che non siamo stati così esecutivi e che non abbiamo avvertito così forte quel pericolo in quel momento, quella necessità di fare qualche cosa differente a quello che so fare io. Perché io sono un calciatore offensivo, però quando spinge il tersino e quando entra il centrale, ad esempio domani il Torino ha un centrale dei tre, che è un ex centrocampista, che ogni tanto lascia la sua posizione viene a fare il mediano aggiunto dentro il campo, viene proprio a giocare sotto i centrocampisti, a inserirsi dentro e c'è bisogno di lavorare anche per gli attaccanti, non c'è verso, perché sennò poi crea superiorità numerica, dice ma quando riconquisti palla poi c'è la possibilità. Sì, ma intanto creiamo una situazione corretta per quello che è la necessità di questo comportamento qui e poi quando si appalla a noi si porta il discorso su quelle che sono le nostre qualità. Sì, eccomi, buonasera. Volevo chiederle, quest'anno l'alta classifica è particolarmente affollata. Secondo lei dipende anche dall'anomalia di questa stagione e se pensa che questo equilibrio durerà molto? Io penso che sia un equilibrio che durerà molto, perché le squadre sono tutte attrezzate. all'inizio c'era varietà nell'andare a identificare quale potesse essere la squadra che riusciva a segnare il passo. Per cui il fatto che sì, ci sia qualcuna più dietro, però a queste squadre che ora hanno perso qualche punto gli era stato dato un assoluto valore da tutti, per cui è segno che la situazione è momentanea che poi si possono riprendere anche quelle rimaste indietro. Quelle sette squadre che abbiamo più volte citato secondo me hanno le carte in regola tutte per riuscire a fare un campionato di alta classifica. E più ce n'è sempre qualcuna che poi si inserisce va a disturbare quelli che sono gli equilibri come è successo sempre tutti gli anni come la Fiorentina l'anno scorso. Per cui non vedo non vedo niente di particolare per il momento in questo in questo inizio. Ecco troppo presto per fare delle valutazioni per quanto mi riguarda. La Gazzetta dello Sport si prepara il mattino. Non parlo né di esperimenti né di formazione base ma anche visto in nazionale e anche in determinate partite con Napoli parlo di Raspadori dall'ingresso di di un centrale quando entro con lo Spezia Simeone ha tratto vantaggio di muoversi meglio accanto a un'altra punta ecco oggi non ha le condizioni che vorrebbero manco Simeone e gli esterni stanno così così eccetera ma al di là del 4-2-3-1 cioè non è solo quello è quella la cosa migliore per Raspadori perché anche visto in nazionale sembra giovarsi giocare in mezzo attorno andare a sfruttare gli spazi se c'è già uno se c'è lui da solo magari fa più fatica secondo me no nel senso no non ha più vantaggio a giocare con una punta per quelle che sono le sue qualità dipende sempre dal tipo di partita che viene fuori cioè se c'è una squadra che ti pressa forte e a noi non ci riesce costruire in maniera qualitativa allora sì allora è come dice lei perché noi abbiamo bisogno di buttarla addosso e nel buttarla addosso Raspa non ha la fisicità di Osime non ha la fisicità di Simeone se però a noi riesce cominciarla l'azione non conta quello che è il compagno di reparto che è a Raspadori perché Raspadori l'abbiamo preso apposta perché sa fare tutto e l'abbiamo guardato bene perché abbiamo spesso dei soldini a comprare lui appunto per quello non ci potevamo permettere di andare a fare un acquisto così importante che poi ci creasse dei blocchi o delle o delle situazioni imbarazzanti Jack è un un calciatore forte calciatore forte perché ha muscolo ha watt nelle gambe è un calciatore forte perché calcia bene di destra e di sinistra è un calciatore forte perché sente sente benissimo quella che è la 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 casina la porta poi ha personalità un ragazzo che vuole migliorare non non si fermerà certo alle alle prime soddisfazioni è uno che vuole andare avanti è un po' ambizioso è come noi noi abbiamo una squadra ambiziosa abbiamo una squadra giovane ma che che ha come come intenzione quella di andare a far vedere o andare a diventare dei dei campioncini per quelli parlo per quelli più giovani e questo e questo per noi diventa fondamentale e in questo la società è stata molto brava a fare questa scelta qui il mattino si prepara il Corriere della Sera edizione Napoli sì buon pomeriggio la vittoria di Milano le cambia un pochettino la visione di questa stagione nel senso che lei si divertiva a parlarci di uno schemino i giocatori che si avvicinavano a quelli che sono andati via e quelli che sono arrivati incomincia ad esserci uno step fatto da questi nuovi arrivati grazie un aspetto? uno step uno step sì sicuramente hanno fatto vedere di adattarsi subito a quello che deve essere il livello di calcio che vogliamo giocare il livello di classifica che vogliamo portare avanti perché noi vogliamo stare lì vogliamo essere in lotta con queste sette fino a un fondo al campionato e per quello che mi riguarda proprio in funzione anche di quello che che dicevamo prima c'è una un'alta classifica affollata e per cui sono squadre forti e che stanno producendo un buon calcio noi ci siamo adattati bene stiamo portando avanti bene il nostro discorso c'è da continuare che è la cosa un po' più difficile e non c'è solo da parlare di continuità di risultati perché quella è solo una parte c'è da da continuare in questo atteggiamento qui da vedere la gente molto interessata a quello che è il progetto del Napoli a quello che è la nostra maglia a quello che è l'amore dei nostri tifosi e andare a sbattere sugli avversari in qualsiasi modo si chiamino come abbiamo fatto nelle ultime partite Corriere della Serie edizione Napoli si prepara Canale 8 mister lei l'anno scorso sottolineava spesso la necessità della squadra di crescere la chiamava fase di nessuno la fisicità le seconde palle contro queste squadre come il Torino che hanno determinato atteggiamento tattico le volevo chiedere guardandosi indietro quanto è cresciuta questa squadra in questo tipo di caratteristiche e poi su Politano Lozano e Rachmani veloce se sono tutti abili e ruolabili allora sì sì no è un discorso che stiamo che stiamo prendendo in considerazione quello di come abbiamo detto prima di riuscire a comportarsi anche dentro le fasi di partita che non assomigliano alle nostre qualità se però prima mi è stato detto che Marco Domenichini ha detto che mi sono un po' arrabbiato e riguarda ancora quella cosa lì se prima abbiamo detto che il Mila ha avuto delle occasioni dentro l'area di rigore nostra riguarda ancora un po' quell'atteggiamento lì dove non riusciamo ad essere partecipi come in altre fasi di gioco e quello con quello completeremo perché poi dall'altra parte la qualità ce l'abbiamo le occasioni riusciamo sempre a svilupparle più o meno delle delle vampate di qualità e di estro per i giocatori per i calciatori offensivi che abbiamo e per i centrocampisti che si inseriscono riusciamo sempre a portarla a casa il Torino è un brutto cliente è un brutto cliente perché sappiamo il valore della squadra della società del del modo di lavorare del suo allenatore perché loro hanno un allenatore che lavora è visibile questo e quando la gente lavora poi porta sempre a casa qualcosa e per cui c'è da essere più bravi di loro sanno interpretare bene quella che è una costruzione giocata dal basso a quella che è una una pallata di Milinkovic che te la mette direttamente al limite dell'area e avendo già fatto diversi gol in questa maniera qui e i centrocampisti che che vengono a sostegno sanno giocare in più modi sanno difendere in più modi anche se gli piace fare battaglia a tutto campo perché ti vengono addosso a fare l'uomo contro l'uomo però poi hanno hanno modi diversi anche di difendere e questo la dice lunga su su quella che sarà la difficoltà della partita domani ma noi vogliamo andare a vincere partite difficili non vogliamo vincere partite facili per cui siamo pronti per misurarsi anche contro una squadra forte un allenatore forte come lui sia frutto solo perché nessun altro arbitro donna fino a questo momento aveva dimostrato di essere pronto per la massima categoria per cui sono convinto che saprà saprà farsi valere avrà il rispetto di tutti come tutti gli altri arbitri che ci sono stati fino ad ora Canale 21 e si prepara Napoli Magazine Salve mi consente il termine turnover nel senso che condivido e rispetto molto quello che lei ha detto finora relativamente all'impiego dei calciatori ma domani dal primo minuto lei immagina un po' di turnover in difesa penso a Juan Jesus e da centrocampo penso a Don Belè secondo me si fanno dei torti agli altri a rammentare solo Juan Jesus e Don Belè anche se sono due calciatori pronti perché l'hanno fatto vedere quando l'ho fatto di giocare Don Belè soprattutto sta crescendo e e ci verrà molto comodo proprio per quelle qualità che dicevamo prima che ci mancano in certi momenti della partita lui quelle qualità di essere uno che sportella facilmente con gli altri ce le ha e ha questa forza proprio fisica da da spostarti senza far niente di particolare perché sono fatto così e di conseguenza mi ci vuole questo spazio qui è chiaro che tra qui e martedì qualche cosa qualche cosa cambierà perché bisogna vedere un po' ora su domani non penso di cambiare molto dalla formazione che ha giocato più spesso perché i calciatori stanno bene sono ritornati tutti in condizione ottimale hanno una mente pulita sono vogliosi e quindi non ci saranno molti cambi dalle ultime formazioni che hanno giocato più spesso napoli magazine si prepara pianeta napoli in questo tour de force che ci separa da lo stop con per il mondiale no ci sono tante partite devono giocare tutti chiaramente qual è il pregio che spalletti vuole rivedere in questo mese e mezzo dai suoi ragazzi che ha visto in questo inizio di stagione qual è l'errore più grave che non devono assolutamente ripetere il pregio è quello i veri i veri anche potenziali campioncini sono quelli che hanno la forza mentale di 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 non fare tante differenze di sapere bene qual è la professione che che svolgono che vengono coinvolte più cose nella professione che svolgono che c'è qualche volta da reagire ai momenti di difficoltà soltanto di andare a dare seguito a quello che è il discorso che hanno che stanno affrontando adesso un modo di giocare corretto perché poi con la squadra ci si vede spesso si sta spesso insieme si parla al video di calcio e gli vengono fatte anche le domande si fa così sì o no e vogliono fare così ormai i calciatori ne conoscono quanto me di calcio di situazioni di gioco e sanno benissimo quando si parla di qualche comportamento a che cosa assomigli lo esigono sono lì che aspettano che qualcuno gli dica quello che loro vogliono fare che siano d'accordo con loro ecco per cui non ho niente da da fare in maniera differente o non ho niente da chiedere che facciano in maniera differente i miei calciatori e quello che magari quello che mi piacerebbe non rivedere e magari quel qualche go che abbiamo sbagliato quando siamo stati davanti al portiere perché poi quello lì alla lunga se no ti può costare qualche risultato di essere così determinati e quel diciamo quel livello quello scatto che poi involontariamente tutti i giovani calciatori debbo non può fare perché ci sono di quelli che stanno a capanno tutta una partita poi capiscono la situazione importante su quella si fiondano con tutte le forze che hanno e danno il massimo su quella perché la sanno interpretare noi interpretiamo tutta la stessa maniera è una bella cosa però poi nella maturazione c'è questo fatto di sapere qual è veramente l'occasione quella questa è la mia palla e la porta a casa io questa qui non te la lascio a te ci sono degli attaccanti che a volte fanno danno l'impressione ai centrali di avere una giornata che che è un po' pigra che non si impegnano tanto no gliela lasciamo prendere questa non mi interessa questa non mi interessa questa mi interessa e la pigliano loro è un po' quello scatto di maturità per per l'esperienza che debbono un po' pagare i calciatori un po' più giovani ecco pianeta Napoli e si prepara spazio a Napoli sì mister buongiorno col fatto che il Torino viene molto ad accorciare sul portatore di palla e che i quindi vanno ad aggredire i terzini avversari per esporli a rischio in difesa e magari avere un tre contro tre il segreto può essere girare molto velocemente il pallone eh sì quello lì il muoversi per creare spazio e per avere delle possibilità di andare a ricevere palla dentro questi spazi ci vuole una continuità di movimento oltre che una sintesi di di qualità di gioco importante perché la palla si tocca due volte e bisogna andare interpretare dove c'è lo spazio e chi ci va riceve in quello spazio e si ha poco tempo per per dare via la palla però quella è una nostra qualità io nutro molta fiducia che questo lo sappiamo fare spazio Napoli buongiorno mister le leggo una frase che ha pronunciato Simone Inzaghi poco fa dove alleno io aumentano i ricavi si dimezzano le perdite ed arrivano i trofei considerando che Spalletti sta facendo un buon lavoro anche sul calciatore anche quest'anno con con Kim qua Raskeila e Raspadori che si stanno mettendo in evidenza cosa manca poi per ottenere questi obiettivi e raggiungere i trofei cosa manca è discutibile anche questa cosa qui però noi vogliamo come dicevo prima siamo ambiziosi e vogliamo poi dare continuità a questa serie di risultati e andremo a vedere poi in fondo io non lo so non mi ricordo che ho fatto fino a ora in precedenza per cui mi rimane difficile andare a riprendere tutto perché in molti anni faccio questo lavoro e c'erano tante di situazioni mi piace più guardare a quello che sarà ad andare avanti a cercare di portare a casa qualcosa in futuro grazie a tutti